Sì, grazie innanzitutto alla banda musicale, chiamarla banda un po' improprio, secondo me è a livello di un'orchestra, grazie per l'impegno che ci ha messo, grazie per l'attenzione che hanno avuto durante tutto il periodo delle prove, solo per dirvi, qualcuno ha sentito che si stava lamentando, ma c'è bisogno di tutte queste cose, loro hanno misurato la temperatura di loro stessi, hanno suonato in questa formazione qua, se vedete in basso hanno dei piattini per scaricare la condensa degli strumenti, dentro c'è una soluzione disinfettante, c'è la maniacalità dell'attenzione per evitare il problema che purtroppo ancora oggi attanaglia il mondo intero, ci ha portato a avere delle precauzioni importanti, per qualcuno magari saranno fin troppo, ma dato che il nostro paese purtroppo ha dovuto anche piangere delle persone, delle persone sono morte, delle persone hanno avuto dei problemi di salute serissimi, oggi a Portacomaro, lo dico pubblicamente, ci sono due persone a casa in quarantena che non sono positivi, ma hanno volato su un aereo con una persona positiva dentro, e quindi loro adesso staranno 15 giorni a casa facendo tutti i controlli. Detto ciò vi do un paio di informazioni sulla sicurezza, ve l'ho promisi già l'anno scorso, poi non ci sono state altre manifestazioni in mezzo. Se va via la luce, se sentite un grosso botto, state fermi dove siete, vi daremo noi le informazioni sul come fare. Nel momento in cui dovessimo evacuare la sala, il posto, la posizione di uscita è verso la terna arancione, le trascende sono di plastica, sono facilmente muovibili e andiamo via di là. Per quanto riguarda il pubblico, per quanto riguarda l'orchestro, invece, l'accesso e l'uscita è la parte in fondo del campo da tamburello. I bagni pubblici sono i bagni posizionati in piazza Boe, sotto. Se qualcuno avesse dei problemi troppo urgenti e di un bagno a, diciamo, corto raggio, sotto la struttura qua sono presenti i bagni funzionanti, ma sono chiusa chiave, quindi dovete essere accompagnati per andarvi sotto. Altre cose che vi ho da dire è tenete la mascherina, non spostatevi di posto e non spostate le sedie. Capisco che magari a qualcuno possa dar fastidio, ma purtroppo sono regole, non le ho decise io e vediamo di ubbidirli tutti. Vi ringrazio ancora della pazienza che metterete e sicuramente la, dico solo banda o dico orchestra, ci allieteranno rendendoci la serata sicuramente piacevolissima. Grazie a tutti. Hanno comunicato adesso che c'è una macchina da spostare, una Fiat Idea, Como Y601 YN. Allora aspettiamo che arrivi di nuovo lui prima di partire. Questi maestri di musica li studiano tutti per mettersi in mostra e per farsi fare un applauso. Allora ovviamente oltre al nostro sindaco vogliamo portare un ringraziamento particolare alla Proloco, nella persona della sua presidente Giorgia Borra e a tutte quante le associazioni che collaborano con noi per l'organizzazione della serata. Poi vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento anche al qui presente consigliere provinciale Paolo Bassi, delegato della provincia, del presidente della provincia e gli facciamo un bel applauso. Nonché al maresciallo Luca Mastro Simone, comandante della locale stazione dei Carabinieri. Lo scorso anno avevamo avuto un cambio di maestri con la... C'è anche il vice sindaco di scorso legno e rappresentanza del comune. Ah, benissimo. Allora applausiamo anche il vice sindaco di scorso legno. Grazie. 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 Grazie.